Il dottor Anselmo Madeddu ha pubblicato un corposo rapporto sulla morbidità tumorale, le malattie del tuore, nella provincia di Siracusa e adesso ci dà informazioni preziose per quanto riguarda l'ospedale Muscadello, che dovrebbe diventare, grazie alla legge che è stata approvata proprio di recente, un polo ontologico, se non il polo oncologico di riferimento di tutta la Sicilia o sbaglio? Sì, questi studi in realtà, lei ha detto benissimo, che hanno messo in evidenza questa elevata incidenza di neopolesia nel territorio proprio di Augusta, è servito tantissimo proprio per orientare le scelte della politica sanitaria sulla individuazione di Augusta come polo oncologico di riferimento provinciale, quindi per quanto riguarda la rimodulazione della rete ospedaliere in Sicilia l'indirizzo dell'assessore sulla base di una proposta fatta dall'ASP di Siracusa è quello proprio di individuare in Augusta un polo di riferimento provinciale per la patologia oncologica che prevederà la presenza per esempio di otto posti letto di oncoematologia e quindi si darà un'importante risposta alla cura delle leucemie che rappresenta una forte fuga verso l'esterno e c'è una carenza forte dell'offerta oncologica su questo tipo di patologia in particolare, con la creazione di una seconda oncologia medica ad Augusta e una chirurgia ad indirizzo oncologico. Tutto questo farà sì che Augusta mantenga intanto i 121 posti letto che consentiranno il mantenimento del presidio ospedaliero di Augusta con questa forte vocazione legata proprio alle peculiarità del territorio che deve avere Augusta. E poi Augusta significa anche Priolo, Medidi e tutto il retro terreno? Assolutamente sì, sarà un polo oncologico di riferimento provinciale molto integrato anche con gli altri presidi per esempio con l'Umberto I, ricordo che la radioterapia sorgerà al Rizza e sarà integrata e collegata con il polo oncologico di Augusta, così la PET e così via per tutto il resto quindi una organizzazione integrata di livello provinciale che troverà ad Augusta il perno e l'altro aspetto importante peraltro della giornata di oggi che viene presentato è quello della recente normativa approvata sulla problematica dell'amianto che fa di Augusta un riferimento a questo, per questo sì per quanto riguarda la proteggione dell'amianto riferimento regionale. Di questo diamo atto anche all'onorevole Pippo Gianni che è stato proprio uno dei promotori di questa normativa regionale che consentirà ad Augusta di avere questo rilievo di assoluta importanza regionale sul contrasto della patologia dell'amianto nella nostra regione. Bene, grazie a voi.